Sì, una grandissima emozione questo Consiglio di insediamento qui in Piazza Cavour, una delle due piazze centrali di San Giovanni Valdano, è stata veramente una bella emozione che ci ha visto eleggere all'unanimità il Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Portellini, che siederà appunto nel seggio più alto del nostro Consiglio e poi ancora come Vice Presidente del Consiglio Comunale, attraverso questo accordo istituzionale, un esponente della minoranza, Gianna Camiciotoli, quindi grande soddisfazione per questo accordo raggiunto e poi soprattutto la rosa dei nomi della Giunta che insieme a me collaborerà nei prossimi cinque anni, quindi con deleghe diverse, anche abbastanza articolate, quindi Lorenzo Cursi che si occuperà principalmente di opere pubbliche ma anche di bilancio indentato e sarà anche il Vice Presidente di questa amministrazione, Laura Hermini che si occuperà di ambiente ma anche di istruzione, Fabio Franchi che continuerà ad occuparsi di cultura a San Giovanni Valdano, poi Alberto Marziali che prenderà la delega alle politiche sociali e poi quest'anno la novità per questa seconda tornata amministrativa, un assessorato interamente dedicato al commercio. Il commercio sta in questa fase vivendo un momento di grossa difficoltà, e quindi ho pensato di ricavare proprio un assessorato dedicato che sarà ricoperto da Massimo Piotoli.